Musica Bentornati con le consuete previsioni a cura di Meteo One. Mentre al nord il bel tempo è sempre più protagonista, al centro-sud insistono condizioni di forte instabilità, anche se in un contesto di timido miglioramento. Difatti, il momentaneo allontanamento del vortice di bassa pressione verso le coste tunisine permetterà ancora diffuse precipitazioni, ma in un contesto più variabile, specie su Puglia, Lucania e settori adriatici. Attenzione, perché già da sabato va profilandosi una nuova fase perturbata per il centro-sud. Andiamo a vedere nel dettaglio il tempo sulle nostre regioni per venerdì 20 gennaio. Il maltempo colpirà ancora al mattino il Salento e il Tarantino, con piogge e possibili veloci temporali. Sui restanti settori la giornata riserverà precipitazioni di deboli intensità, intercalate da frequenti schiarite, soprattutto sulla Basilicata. Nel corso della giornata piogge potranno interessare il Gargano e il Foggiano, con possibili deboli nevicate a quote alte attorno ai 600-700 metri. Come possiamo notare dalla grafica, le temperature risulteranno in ulteriore aumento, soprattutto nei valori massimi. Soffieranno venti moderati di scirocco sul Salento, altrove risulteranno più calmi. I mari risulteranno mossi ovunque, con rinforzi possibili solo sul canale d'Otranto. Ma eccoci nuovamente con la foto del giorno. Ringraziamo il nostro telespettatore Oronzo Lavermicocca per questa suggestiva foto scattata sul lungomare di Bari durante la forte nevicata dell'Epifania. Se volete inviare la vostra foto del giorno, vi aspettiamo numerosi sulle nostre pagine Facebook di MeteoOne e Teleappula, oppure alle mail che vedete in sovrimpressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Grazie a tutti per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS